Sabor Latino Siete all'ascolto di Sabor Latino un programma curato da Rino Barbablus Musillo e presentato da Il Pirata Barbablus Sabor Latino è in onda su questo emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo.it per sms al 334-99-058-60 e su facebook a Rino Barbablus Busillo Sabor Latino è un programma prodotto dalla la Kingbone Production di Exeter in Inghilterra Sabor Latino con il Pirata Barbablus A tutti buon ascolto Sabor Latino con il Pirata Barbablus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ,... ,... ,... ,... Grazie a tutti 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 I punti Grazie a tutti Grazie a tutti